A l'ora 22 del centro sportivo Cimiano, seconda semifinale della Summer Cup di Calcio 11 Sportland, dopo il 6-0 contro la commenda parte favorita San Silvio 2000, discorso opposto per Vecchia Guardia, ripescata come miglior perdente dopo la sconfitta contro Real Bovisa. La festa all'enagura Abdelhamid che dopo pochi secondi scuscia in aria, ha saltato anche il portiere reto del vantaggio. Masud poco dopo manca il raddoppio che arriva dopo questa parentesi Vecchia Guardia, proprio Masud apparecchia per Abdelhamid che controlla dribbling secco a destro vincente che vuol dire raddoppio. In chiusura di primo tempo ci pensa Giovanni Giassi con questa azione capolavoro a portare il conto di gol a tre. Nella ripresa dopo il calcio di punizione fallito Nicolò approfitta del controllo errato di Capitane Ambroggi per siglare il 4-0. Non è finita qui, Masud riceve palla sulla sinistra, controlla il destro giro sul secondo palo che lascia di sasso il number one. Lui che si procura anche il regore in pieno recupero, che analizza per la marcatura del 6-0 che chiude i conti. Finale ci va a San Silvio 2000, ora lì nell'intervista. Buonasera, eccoci qua bentornati dal centro sportivo Cimiano alla Summer Cup di Calcio 11, la seconda semifinale, la sfida tra San Siro 2000 e Vecchia Guardia. Partiamo da Vecchia Guardia Ventimiglia, già la varo sul volto, non è stata una fantastica prestazione, eravate stati anche ripescati dopo l'ultima sfida che noi abbiamo seguito qui in diretta in esclusiva. Un giudizio sulla gara? Prego. Ma non ho parole, sul 5-0 non ho proprio parole. Comunque, complimenti, bravissimi tutti. Bravo. Basta, non ho più... Non ha parole, le ha portato il fisio, non appare, lo giochiavete in scena, dovesse salvare qualcosa della sua prestazione. Fisio, venga qui, mi faccia, andiamo via, se viene andiamo via. Erano 6, ecco, io non volevo mettere il dito nella piaga, erano 6. Lì, come ha visto il giocatore in campo, se si poteva fare qualcosa, venite qua, c'è un gran parterra stasera. È stato il migliore dei nostri, nonostante un gol sbagliato, clamoroso nel primo tempo, ma è stato il migliore. Sugli avversari, nulla da dire, una spanna sopra la vecchia guardia, senza ombra di dubbio. 3-4 giocatori molto bravi, molto veloci, molto rapidi, che ci hanno messo un sacco in difficoltà. No, Fabietto, cosa dici? Sì, sì, ma sono anche giovani, sicuramente. È una squadra anche giovane, forte, compatta. Bene, posso chiudere così, grazie al fisioterapista ufficiale, grazie a Ventimiglia, buona doccia. Ecco, c'è anche il solito terzo tempo. Ma che, non lasciamo tutto, salvo riscatto che chiederà il maestro. Buonasera al nostro caro mister, presidente Attanasi, buonasera a Mascolo. Lascio prima un giudizio a Mascolo, che è al pallone ufficiale della Champions League. Nonostante non abbia fatto nessun gol, me lo sono tenuto lo stesso. Come giudica la prova dei compagni? Punteggio tondo, tondo. 6-0, come è la sfida nel turno eliminatore contro la Commenda? Stiamo facendo una bella Summer Cup. Salvo la differenza di altre volte, abbiamo sbloccato subito il risultato e poi la partita è andata in discesa. Altre volte invece abbiamo sbagliato tantissimo davanti alla porta ed è finita diversamente. Oggi invece siamo stati cinici sotto porta, compatti. Peccato un po' di nervosismo, ma si sa che soprattutto nelle semifinali un po' viene fuori. Comunque è andata bene, siamo contenti. E soprattutto per Gino, che ci mette tanto cuore. Tutto per lui, insomma. Infatti il nostro Giro Atalasio annuiva in qualche modo, quindi appoggio assolutamente l'espressione del giocatore. Prego. Certamente sì. I ragazzi, dopo il campionato e subito dopo la Champions Club vinta, si sono completamente trasformati. Quindi sono felicemente contento per quanto hanno fatto fino adesso. Adesso per completare l'opera dovremmo vedere l'ultimo passo per vedere com'è. Pickers li conosciamo già, li abbiamo avuti in campionato, quindi sappiamo che sono abbastanza organizzati, ma noi non siamo di meno. L'unica cosa che non abbiamo in questo fine di campionato è che i ragazzi sono stanchi perché hanno giocato, giocano con altre squadre, come di seconda categoria. Altri vanno a fare dei tornei per guadagnarsi qualcosa e quindi ho una squadra rimarginata proprio all'osso, 11 in campo e basta. Però finché va così va benissimo. Finché la barca va, lasciala andare, diceva qualcuno. Grazie a Mascolo, grazie a Gilo e a Tarasi per essere stati qui con noi. Noi ci rivedremo nella finalissima. Ecco, tropeakers saremo qui, quindi a breve gli aggiornamenti. Ma che ne so, credo. Comunque saremo con voi, vi seguiremo. Grazie per essere stati con noi. Chiudiamo il collegamento dal centro sportivo Cimiano.